Come si chiama il tuo amico? Come si chiama il tuo amico? È possibile pagare con la carta? È possibile pagare con la carta? È possibile pagare con la carta? Mi serve una mappa della città. Necessito un mappa della città. Mi serve una mappa della città. Mi serve una mappa della città. Hai qualche raccomandazione? Tieni alcuna raccomandazione? Hai qualche raccomandazione? Hai qualche raccomandazione? Dove posso noleggiare una bicicletta? Hai ricevuto il mio messaggio? Reciviste mi mensaje? Hai ricevuto il mio messaggio? Hai ricevuto il mio messaggio? Quanto tempo ci vuole per arrivare a Roma? Quanto tempo si tarda in llegare a Roma? Quanto tempo ci vuole per arrivare a Roma? Che cosa stai studiando? Che stai studiando? Che cosa 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 stai studiando? Sei mai stato in Spagna? Mi puoi dire l'ora, per favore? Mi puoi dire l'ora, per favore? Hai comprato i biglietti? Compraste los boletos? Non so dove andare. Non so dove andare. Puoi suggerirmi un buon libro? Mi puoi suggerirmi un buon libro? Puoi suggerirmi un buon libro? Puoi suggerirmi un buon libro? Dove possiamo prendere un caffè? Dove possiamo prendere un caffè? Dove possiamo prendere un caffè? Mi sono dimenticato di portare il portafoglio. Mi sono dimenticato di portare il portafoglio. Puoi venire più tardi? Non mi piace aspettare. Non mi piace aspettare. Non mi piace aspettare. Sei pronto per partire? Sei pronto per partire? Sei pronto per partire? Non posso venire alla riunione. Non posso venire alla riunione. Mi sono perso. Puoi aiutarmi? Stoic perdido. Podes aiutarmi? Mi sono perso. Puoi aiutarmi? A che ora parte l'aereo? A che ora sale l'avion? A che ora parte l'aereo? A che ora parte l'aereo? Vado al lavoro presto. Voi al lavoro temprano. Vado al lavoro presto. Vado al lavoro presto. Dove posso trovare un buon hotel? Vado a 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 trovare un buon hotel? Quiero invitarte a obtener nuestro libro italiano fluido el cual está cambiando la vida de muchísimas personas. Si quieres obtenerlo te dejo el link en la descripción del video. Como continues? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.